Ciao a tutti, oggi prepareremo i dolcetti di riso soffiato e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato e riso soffiato. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato e lo facciamo dritare per cinque secondi a velocità 7. Pulire sul fondo del boccale con la spatola. Fare sciogliere per 3 minuti, 50 gradi, velocità 4. Aggiungere il riso soffiato. Amalgamare con la spatola. E ad azionare il bimbi per 40 secondi. anti-orario, velocità, soft. Trasferire in una ciotola. Con due cucchiaini formare i dolcetti posizionandoli nei pirottini di carta. e proseguire per tutto il resto del composto. Posizionare in frigo a rassodare per almeno un'ora. Dolcetti di riso soffiato e cioccolato. Si conservano per 3-4 giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.